Grazie, buongiorno a tutti e buon congresso a tutti. Ho scritto due righe per cercare di stare nei tre minuti così il tavolo sarà contento. Innanzitutto grazie Grimoldi per esserti messo a disposizione, grazie per il tuo impegno, grazie per la tua passione, grazie per esserti candidato a ricoprire il difficilissimo ruolo di segretario nazionale. La Lega Lombarda aveva bisogno di un segretario presente, attivo, capace e l'ha trovato in Paolo Grimoldi. Hai già dato ampia dimostrazione nel tuo percorso politico, di quanto vali e l'hai dimostrato già da commissario. Hai riorganizzato in pochissimo tempo la macchina nazionale, ristabilendo ordine con un organigramma ampio, partecipato, chiaro, con il massimo coinvolgimento del territorio. Questo è quello che serviva alla Lega Lombarda, questo è quello che serve alla Lega Lombarda. Il momento politico che stiamo vivendo è unico per consensi, per situazione economica, ma anche per situazione geopolitica, religiosa, etica, morale. Ci troviamo in un punto della storia ben preciso e sta a noi disegnarne il futuro. Non è semplice decidere. La linea del Movimento la sta decidendo oggi, con eccellente chiarezza, positività e puntualità, il nostro segretario federale Matteo Salvini, che risollevando la Lega da un momento funesto, ha compiuto un vero e proprio miracolo. E quindi mi sembra giusto rivolgere un applauso a Matteo Salvini per questo. Ma il nostro Movimento, per sopravvivere e per crescere, non ha bisogno soltanto di signor sì. Verranno dei momenti in cui spetterà alla base, confermarne o meno il positivo riscontro del popolo. E toccherà soprattutto ai consiglieri nazionali, che verranno eletti oggi, trasmettere al segretario nazionale, con sincerità e senza secondi fini, questo termometro. Nella consapevolezza che oggi l'elettorato è molto più vario e ampio rispetto al passato. Ma servirà anche a mantenere un occhio particolare alle reazioni del nostro elettorato, quello storico, quello zoccolo duro, che ci ha permesso di non scomparire in periodi difficilissimi. Non è facile decidere il percorso, siamo in guerra, ed è difficile affrontare una guerra con metodi democratici. Ma la Lega, sino ad ora, ha scelto l'unica strada possibile. Seguire la normalità, la logica, il rispetto della nostra cultura, dei nostri valori. La strada malestra, che non abbiamo mai abbandonato e mai abbandoneremo. Io sono a disposizione della segreteria nazionale. La provincia di Lecco è a disposizione. Sappiamo che il periodo che ci divide alle prossime elezioni potrebbe essere ancora lungo. E mantenere l'asticella dei consensi e dell'attenzione così alta come oggi non sarà facile. Ma noi lotteremo per questo e per portarla ancora più in alto. Da più parti, lo sappiamo, si coalizzeranno per impedirci di conquistare il governo del Paese. Dovremmo quindi essere uniti e pronti a tutto. Concludo con una sottolineatura che è bene non dare per scontato. Anzi, mi preme ribadirlo, qui. Il mio mandato, il nostro mandato, ha per scopo la realizzazione dell'articolo 1 dello Statuto, il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica federale indipendente e sovrana. Oggi il primo obiettivo del segretario nazionale Grimoldi sarà lottare per l'esito positivo del referendum per chiedere l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e la richiesta delle rispettive risorse economiche. Lotteremo quindi tutti uniti, pancia a terra, innanzitutto per questo, ma ben consapevoli e non dimentichiamoci che l'obiettivo è ben più alto. Il futuro è l'indipendenza! Grazie Rimoldi, grazie Salvini, grazie Umberto Botti.